Ciao, sono Francesco Facchinetti, ho 41 anni e sono un fallito. Mi immagino voi dall'altra parte della telecamera state pensando che cosa sta dicendo questo? Perché dice che è un fallito? Sì, io sono un fallito. Sì, sono un fallito cronico. Lo so, è molto complesso per noi italiani avere a che fare con questa parola. Fallito, loser, perdente. Un po' come se il nostro DNA ci spingesse a non concepire questa cosa, a sfuggire dal fallimento. A pensare che il fallimento sia la fine della nostra vita, la fine della nostra carriera, la fine delle nostre relazioni, la fine di tutto. E invece ho una bella novità per voi. Prima impariamo ad avere a che fare con questa parola, prima impariamo ad analizzarla, prima impariamo a trarne il massimo beneficio dal fallimento e prima saremo dei vincenti. Il fallimento, la sconfitta, è l'anticamera della vittoria.